Primo minuto, pronti via e la Juve parte a testa bassa, rimedia con un'uscita tempestiva a Galli. Sembra un buon inizio per i bianconeri, ma da questo momento in poi ci sarà soltanto il Milan da vedere. Al settimo, scatto rabbioso di Van Basten con tiro d'angolo difficile, ma si è già capito che la Juve fatica in difesa. Undicesimo, Milan in vantaggio su autorete, azione Donadoni-Gullit-Van Basten, mentre Favaro gira a vuoto, Triccella devia in rete il tiro di Van Basten, impossibile per Tacconi ritornare da sinistra a destro. Tre minuti più avanti, Milan raddoppia, Van Basten appoggia per i vani un centro di Gullit, piatto sinistro sotto la traversa, 2-0 con episodio che rivediamo. Con una difesa chiaramente in crisi, che Zoff presenterà cambiata dopo l'intervallo, Tacconi diventa l'ultimissima linea davanti ai rossoneri scatenati, dopo la manovra Van Basten-Gullit, conclusione di Ancelotti. E ancora, per la bravura di Tacconi su Van Basten, si va a riposo, fermi sul 2-0. La sostituzione di Mannari con Evani segue di poco i cambi di Zoff, Brio e Magrini per Favaro e Zavarov. Contro un Milan in giornata di Grazia non ci sono sbocchi, Laudrup fermato da Baresi. E comincia lo show di Mannari, gran lavoro in mezzo a tre o quattro avversari e palla per Van Basten. Tacconi non si scompone più di tanto per la deviazione in angolo. 24esimo, terzo gol rossonero, Donadoni insegue il pallone fino sul fondo, dal suo cross la deviazione vincente di Mannari. Un volo verso il primo palo per centrare l'angolino dall'altra parte. Da Costa Curta è entrato per Donadoni, il lancio sfruttato da Mannari per il 4-0 con la difesa allo sbando, non ci arriva neppure Tacconi, la palla in rete. Quaterna molto amara per Zoff, trionfo di tifosi rossoneri in stile messicano. Negli spogliatoi, interviste di Bruno Pizzulco e protagonisti cominciando da Sacchi e Mannari. È un buon Milan, Milan piacevole, Milan che ha giocato bene. Speriamo che questa partita sia di buon auspicio per quella di mercoledì. Diceva del primo tempo, un primo tempo nel quale il Milan ha fatto veramente delle cose eccezionali. Nella ripresa ha giocato ancora molto bene ma si è avuto l'impressione che avesse un po' rallentato il ritmo. Ordini tuoi? Sì, abbiamo abbassato un attimo il ritmo e contro la nostra mentalità, il nostro modo di giocare, però in questo momento dovevamo fare così, l'abbiamo fatto anche bene, credo. Pronti via, sei entrato in campo, due gol. Quanto di merito tuo e quanto di merito del Milan c'è in questo exploit? Sicuramente la maggior parte va alla squadra che mi ha messo in condizione di segnare. Io totalmente concluso, sono fortunato. Stefano Attacconi, capita raramente che un portiere becchi quattro gol e possa essere giudicato il migliore della tua squadra. Hai battuto anche questo record? A parte lo zappe, ormai è un'annata particolare. Diciamo che il Milan sembrava che giocassero in 15, 16, abbiamo sbagliato a contarli. Sì, abbiamo.